Sicuramente l'approccio più salutistico in senso lato con finalità di prevenzione sia delle malattie cardiovascolari che della preservazione della salute del nostro cervello che per evitare patologie di tipo tumorale è quello di una dieta bilanciata che contenga una quantità di calorie globalmente proporzionale a quante realmente ne consumiamo e che porti a un mantenimento generale di un peso corporeo come si sulle dire in forma. Nell'ambito della scelta degli alimenti ovviamente vi saranno alimenti più sani o meno sani, tutti quanti sappiamo che la tradizione mediterranea ci mette a disposizione una serie di alimenti che vengono universalmente riconosciuti come sani, come l'olio extravergine d'oliva, come le verdure, in certa misura anche la frutta quando l'on consumata è in quantità smodata ancora una volta rispetto al carico calorico, il pesce, le carni magre, i legumi, tutto ciò è sicuramente da considerare come qualcosa di estremamente positivo, ripeto, quando non si esagera sulle quantità perché anche quelli che oggi vengono chiamati superfood o alimenti per la salute come possono essere il vino rosso o l'olio extravergine d'oliva mantengono tutte le loro proprietà salutistiche quando consumati in modiche quantità, quando consumati in quantità superiori a quanto necessario per il condimento o al bicchiere di vino a pasto tendono comunque a diventare delle fonti di calorie molto molto importanti e di conseguenza a determinare effetti dannosi legati a sovrappeso, obesità, sviluppo di diabete ed altre condizioni. Non bisogna poi farsi traviare da alcune mode estemporane che ci portano eventualmente a deviare la nostra attenzione verso alimenti che peraltro usualmente sono anche molto più cari come possono essere fonti di antiossidanti indubbiamente efficaci come per esempio le bacche di goji quando abbiamo a disposizione un numero di bacche nostrane sicuramente altrettanto interessanti ed importanti senza essere sottoposte peraltro a viaggi intercontinentali. Idem vale per quanto riguarda l'utilizzo dei semi nella dieta che è un qualche cosa che fa sempre parte del nostro patrimonio culturale no gastronomico per il quale possiamo rivolgersi tranquillamente a semi di girasole, semi di papavero, semi per esempio di lino senza dover necessariamente andare a ricorrere a semi di chia o altri semi derivanti ancora una volta da altri continenti.